amici di youtube ben trovati da marco liquori in questo video parliamo dell'ironia social che di recente avvenuta nei confronti di albano prima di farlo vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 300 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo vi ricordo anche che este video tambiene sta tradusito all'espanol amici youtube grazie per aver aperto questo video andiamo ad introdurre l'argomento del giorno l'argomento degli ultimi giorni l'ironia social che sta avendo luogo nei confronti di albano albano ha dichiarato l'uomo ha sconvitto i dinosauri e così come ha sconvitto i dinosauri sarà in grado di sconviggere il virus in realtà a sconviggere i dinosauri non è stato l'uomo bensì un meteorite 65 milioni di anni fa e il popolo del web ha iniziato un'incessante campagna piuttosto offensiva piuttosto goliardica nei confronti di albano niente di grave pensate è anche stato creato un videogioco tra l'altro da alcuni sviluppatori italiani un videogioco divertente che vede albano alle prese con dei dinosauri un videogioco che ha sommi capi ricorda i vecchi giochi a 8 bit scrivete nei commenti se ricordate i meravigliosi vecchi giochi ad 8 bit come ad esempio super mario sonic su youtube impazzano le parodie con albano nelle vesti dello scienziato di jurassic park quindi amici youtube tanta è stata l'ironia tanta è stata la goliardia dopo l'affermazione di albano che ripetiamo l'uomo ha distrutto i dinosauri ma a mio parere albano ha fatto una gaff consapevole quasi come faceva il grande mike buongiorno allegria amici ascoltatori vi ricordate del grande mike buongiorno che una volta dichiarò che il papa più famoso di tutti fu pio x anziché e pio x quindi mike buongiorno era solito fare delle gaff consapevoli sicuramente ha fatto lo stesso anche albano vado a tradurre questo video anche in spagnolo apprendiamo che albano ridiculizzato per le redes sociales italiane in italia crearono un video juego con hell i los dinosaurios amici di youtube amici spagnoli grazie a todos amici che mi seguite dai paesi latini grazie per aver portato marco liguri anche nei vostri meravigliosi paesi vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 300 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo commentate questo video commentate l'ironia social che si è scatenata nei confronti di albano i commenti più belli saranno letti nel prossimo video ciao a tutti